Non solo siti d'arte ma anche alberghi e ristoranti pieni. È positivo il bilancio stilato dagli operatori turistici durante il lungo weekend di Pasqua. Molti hoteli, in particolare quelli nel lungomare, hanno registrato il tutto esaurito. E c'è anche chi non è riuscito ad accogliere ulteriori clienti. D'altra parte invece c'è chi ha preferito rinviare l'apertura della propria struttura ricettiva. È stato quel mordi e fuggi che ci ha portato alcune persone, però per noi è stata una formula negativa le previsioni. Le previsioni quando la gente sa che c'è tempo cattivo con la crisi non arrivano a Fano. Ma per fortuna la pioggia non ha guastato le festività e sia domenica che lunedì in tanti hanno affollato sia il centro storico che il lungomare. Qualche lamentela però non si è fatta attendere. Il maltempo della scorsa settimana infatti non ha di certo agevolato la città ad accogliere i turisti nel migliore dei modi. L'amministrazione comunale si era impegnata fin da subito a ripristinare Viale Ruggeri e la passeggiata Giovanni Paolo II a Sassonia. Ma le cose che potrebbero essere migliorate sono diverse, come ad esempio il decoro urbano, in particolare la vegetazione che cresce spontanea nelle aree del centro storico, ancora in cattivo stato. Inoltre sono le spiagge con cumuli di rifiuti e rami secchi, ma la maggior parte dei gestori degli stabilimenti balneari non eseguirà i lavori di manutenzione e di ripulitura prima di qualche settimana. Abbiamo sentito, anche Sirolo e Unumana, ancora hanno le spiagge in uno stato, Senigallia, in uno stato pietoso per il fatto della grossa mareggiata che c'è stata. Saremo pronti, io penso, fra 10-15 giorni, però ancora abbiamo tutto in fase embrionale perché il tempo è quello che è stato. Bisogna puntare sul sistema turistico continuativo. Non possiamo parlare di grandi progetti futuristici, ma un progetto realizzabile. dare una bella visione sull'Idola, Sassonia, Torrette perché non abbiamo ancora un lungomare decente.